Io ho ancora avuto molti regali, no? Molto regali a far rinagare qua? Barba Bianca, abito rosso, è lui l'ospite più desiderato nelle case di tanti bambini, nella notte più magica dell'anno. Babbo Natale, Santa Claus, poco importa come lo chiamiamo, lui porta doni e gioia, grandi e piccini. Ogni anno la fantasia intorno a questo incredibile personaggio si spreca. Quest'anno il premio per l'originalità va al Babbo Natale, arrivato presso il circolo ricreativo Gatto Nero di Griccena, comune di Monte Sanzavino. Arriva niente di meno che a bordo di una ruspa, del resto senza neve, dice ai bimbi, la slitta non va. Senza ghiaccio, da cimitella un po' è finita, finita. Vediamo, come ti chiami? Non è adesso, vediamo. Ora, io avanti, no? No, poi l'altro va a Buon Natale, tutti i regali che avete scritto. No, va a Buon Natale, bevi, vai. E loro ci credono e come, chi lo bacia, chi no, ma sono ben contenti di ricevere un piccolo dono rigorosamente uguale per tutti. La comunità, dopo le varie tombolate, si scambia un caldo augurio di Natale, un ottimo esempio di collaborazione tra cittadini in un piccolo centro della campagna retina che ha saputo riscoprire le sue tradizioni.